Che cosa mi importa delle vostre sofferenze? Il dolore, perfino l'agonia, non sono altro che informazioni per i sensi, dati di cui si nutre il computer della mente. La lezione è semplice, avete ricevuto le informazioni, ora agite di conseguenza. Prendete il controllo dell'input e sarete padroni dell'output. Presidente Chen Qiang, saggi sulla mente e la materia.